L'Ugo? L'Ughino? Amori sono di novi? E' neve! L'Ugo! Sono in ritardo! L'Ugo! Ma dove stai andando? Attenzione! L'Ugo? L'Ugo, l'Ugo, l'Ugo! Attenzione, l'Ugo! Oh, mio! L'Ugo, l'Ugo, l'Ugo! L'Ugo, 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 l'Ugo! Ho un pochino anticipato il nome del prossimo ospite. Io sono sempre felice quando sento colleghi del calibro del nostro ospite odierno. Tra l'altro io sono mezzocampano, quindi per me è sempre un ritorno alle origini. Diamo il benvenuto al collega Sandro Ruotolo. Benvenuto Sandro! Grazie, 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 grazie di cuore. Sandro, la politica del ritardo è una politica che ci ha sempre contraddistinto. Una politica che ci vede ancora oggi sempre e comunque a dover inseguire qualcosa, qualcuno. Le tasse, il pareggio di bilancio, dei decreti legge che ci aiutino a migliorare l'occupazione. Ma abbiamo scoperto, purtroppo, con le frasi di Fabrizio Miccoli, per Dovizia di particolari, ricordiamo che ha chiesto scusi a quanto ci manca per recuperare quel senso dello Stato e delle istituzioni che il grande Giovanni Falcone, in questa foto meravigliosa che ci ha appena mandato la regia, ha provato ad insegnarci negli anni. Ma manca tanto, la sorella di Giovanni Falcone, Maria, come hai detto tu, Miccoli ha chiesto scusa, ha detto di aver parlato con lei, lei nega questo, ma insomma il problema vero è il ritardo, tu parlavi. E' una crisi profonda, perché noi più vecchi ci ricordiamo meglio quella che è stata la prima repubblica, cioè quella repubblica nata dopo la seconda guerra mondiale con la carta costituzionale, dove c'erano gli avversari, poi è degenerata con la crisi finale di mani pulite, quindi della corruzione. Ma c'erano politici, ecco, questo è il caso di dire di non generalizzare, cioè erano i padri costituenti, quella prima repubblica è nata con i padri costituenti, con l'idea, la passione di milioni di persone che credevano nei loro valori, dei partiti, delle istituzioni, dello Stato. E c'è stata una degenerazione oggi sotto i colpi della crisi, che è la più importante, la peggiore crisi economica finanziaria addirittura del secolo del Novecento, Addirittura il 29 si è risolta prima la crisi del 1929, qui se andiamo a riflettere dal 2007, quindi 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, sono già sei anni che siamo in piena recessione, quindi i livelli sono drammatici, non c'è più il ceto medio e quindi è andato in crisi il ceto medio. Se non ricordo male ci sono mille imprese che chiudono ogni giorno, ci sono migliaia, 500 mila ore di cazzo integrazione nei soli sei mesi. Sandro, per attualizzare sulla nostra Puglia, ricordiamo un dato recentemente diffuso, per ogni locale commerciale nuovo che apre due ne chiudono, quindi siamo veramente alla frutta. Siamo alla frutta, allora in questa situazione siamo in ritardo perché dovremmo avere una classe dirigente all'altezza e non ce l'abbiamo, abbiamo la crisi dei partiti perché dopo manipulite gli scandali che abbiamo vissuto anche nel 2013, ci dicono le cose peggiori di questi politici. Una volta, io lo ricordo sempre, una volta mi trovai in Sardegna a raccontare la crisi del Sulcis Iglesiente, che è la provincia più povera d'Italia. Un vecchio operaio mi disse che negli anni 50-60 i nostri genitori ci dicevano arruolatevi, cioè per rispondere alla disoccupazione, entrate nella polizia, nei carabinieri, eccetera. Oggi quei vecchi genitori avrebbero detto ai figli, entrate in politica, perché la politica è diventata un posto di lavoro. Uno stipendificio. E mentre dovresti pensare al bene comune, pensi agli affari tuoi, allora abbiamo gli scandali, abbiamo il fiorito del Lazio o i consiglieri regionali della Lombardia che mettevano in pagamento con i soldi pubblici anche le scatole di Nutella, quindi c'è una degenerazione. E allora se andiamo a leggere anche le ultime elezioni, le ultime elezioni ci dicono che gran parte degli italiani non sono andati a votare, la metà degli italiani o più o meno. E hanno votato un voto di protesta. La gente è più intelligente di quello che si dice, quindi bisogna rispettarla. Quindi da questo punto di vista stiamo indietro anche se poi dei segnali comunque dai cittadini sono segnali che vengono. Il dramma del nostro paese è che chi ci dovrebbe governare, ma io non faccio un discorso destra, centro, sinistra, un discorso... Esatto, noi facciamo un discorso ampio, abbiamo una visione d'insieme delle cose. Eh, esatto, ma io penso anche all'imprenditore, io non penso al politico, perché la classe dirigente vuol dire anche il professore universitario o la professoressa della scuola media. Questa è la... che forma la classe dirigente, forma, diciamo, quello che dovrebbe essere. Eh, siamo all'anno zero. A proposito di anno zero, ricordiamo tra l'altro i fasti di un programma televisivo che cambia pelle ma mantiene la stessa qualità con i medesimi collaboratori, e quindi ricordiamo anche, facciamo i complimenti alla grande stagione sulla sette di servizio pubblico. Pubblico, sì. Sandro, tu hai detto giustamente, gli italiani sono meglio tante volte di chi li rappresenta. Oppure sono anche lo specchio di chi li rappresenta. Esatto, perché sociologicamente... Gli italiani di Alberto Sordi erano i furbacchioni, poi ci sono gli italiani... Gli italiani sono sempre stati divisi in due categorie, i furbi, quello che frega l'altro, e poi c'è la gente per bene. Penso che sì. Sulla quale si costruisce il paese. A proposito di questo, possiamo dire per una volta, ed è un merito veramente ad una città intera come quella di Palermo, che ha, non dico ghettizzato, ma ha creato una linea molto netta fra la città per bene e quelle dichiarazioni di Miccoli. Perché penso che quelle dichiarazioni di Miccoli facciano male al ragazzino tra i 6 e i 16 anni che forse non sa chi era Giovanni Falcone. Il ragazzo acculturato invece sa chi è e si schiera apertamente contro queste frasi. Ma non pensi che, oltre alla città per bene, mi riferisco a Palermo, l'intera tifoseria, la società hanno tutti preso le distanze, chi paga di più siano i ragazzi che hanno un idolo che di fatto ha detto delle cose inverosimili? Sì, no, ma allora è chiaro che se tu prendi l'idolo sportivo, è chiaro che ha un peso enorme nella formazione, perché poi il punto di riferimento è soprattutto dei giovani tifosi, no? E allora il Miccoli, che poi non è un ragazzino di 21 anni, 19 anni, il buffon di 15 anni fa che c'aveva le scritte naziste. E la maglia numero 88, che ricordiamo 8-8, era uno scimmiottamento della doppia H. Mi capisci che il buffon ancora immaturo, io non lo difendo, non lo voglio difendere, però posso capire. E il Miccoli, se non sbaglio, se non ho capito male, è un uomo di 30 anni e passa. Esatto, del 79. Ecco, lui pure ha ricordato oggi di avere due figli, figlioletti, eccetera, quindi non dico che è un uomo maturo, ma insomma non è un ragazzino. E allora come il politico, il personaggio pubblico, fa tendenza nelle cose positive, nelle cose di consumo, ma fa tendenza anche nei valori che trasmette. E sono valori negativi, perché poi, certo, lui oggi ha chiesto scusa, si è reso conto, si è messo a piangere, però lui è indagato, ma non per la frase il fango di Falcone, eccetera. Per una serie di altre... Perché, a parte l'amicizia con il figlio di un boss, ma quando questo boss era latitante, lui è andato a chiedere delle schede telefoniche per questo figlio, e quindi presumibilmente l'accusa questa è, quindi è un passo superiore, successivo, è andato dal figlio del boss per richiedere dei soldi che doveva avere da uno della discoteca, eccetera. Quindi non è soltanto, diciamo, un linguaggio da, tra virgolette, lo metto da ignorante, poi è chiaro che uno al telefono, con questa solita scusa, ma io sto al telefono a parlare con un amico mio, ho capito, ma a me non verrebbe mai da dire, parlando con un amico mio, quel fango di Falcone. E cioè, quindi, ci sono dei valori... Ricordiamo comunque Sandro... Io capisco, lui si sarà reso conto, però è anche giusto che la magistratura abbia indagato, e lo stia indagando, ieri, se non ho capito male, è stato interrogato per più di quattro ore, quindi da qui è la cosa, ma qui noi non è che dobbiamo processare. Esatto, poi tu hai detto una cosa molto intelligente e molto netta, ricordiamo che è ancora indagato, ma al di là di come andranno le indagini, ricordiamoci... Ma non è quello il punto, il punto è che è un punto di riferimento per la società. E questo è il problema, perfettamente d'accordo. A proposito di questo, io in questo momento non gli stringerei la mano, dopo quello che ho saputo, avevo una stima infinita per il calciatore Fabrizio Miccoli. Ma questo ti fa capire pure il simbolismo di oggi, la cosa per cui lui aveva il Che Guevara, se non ricordo male si è preso gli orecchini di Maradona... Litigò con Luciano Moggi per questo, però Sandro tu sei in una tv commerciale, andiamo in pubblicità un attimo, qualche istante ritorniamo subito, anche alla 7 è così, no? Certo, con piacere. Arriviamo subito.